Ciao a tutti, io sono Paolo Roersi, lui è Rambo, e oggi siamo qui per parlarvi di Addicted, il mio nuovo romanzo in libreria del 17 gennaio per i tipi di Sam. Si tratta di un thriller che diventerà anche un film con un cast internazionale e in cui si indagano i vostri, i nostri vizi più nascosti, le addiction, le passioni, le ossessioni. Racconta la vita di sette personaggi che vengono da diverse parti del mondo e che hanno dei segreti incompressabili. Lo faranno in questa clinica Sunrise, una masseria pugliese bellissima, dove però cominceranno a succedere delle cose abbastanza inquietanti. Un thriller da ritmo incazzante che presto diventerà, oltre a un film, sarà tradotto in diversi paesi stranieri e insomma io sono molto agitato, sono già Addicted di questo libro. Ciao a tutti, anche da Rambo.